Fare il punto sul comparto del sughero che in Sardegna rappresenta un elemento importante non solo sotto il profilo economico ma anche paesaggistico e ambientale. Questo è l'obiettivo del convegno e le opportunità del settore sughericolo nella programmazione 2023-2027 organizzato a Cagliari dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con l'Agenzia Regionale Forestas e l'Associazione Nazionale delle Attività Regionali e Forestali. Il settore della sughera in Sardegna è particolarmente importante perché siamo la prima regione d'Italia per presenza di sugherette, quasi 140.000 ettari. L'80% della produzione di sughere in Italia proviene dalla Sardegna. È un settore economico su cui dobbiamo puntare tantissimo, lo facciamo con l'Agenzia Forestas alla quale abbiamo attribuito importanti risorse derivanti dalla strategia nazionale forestale e dovrà occuparsi di gestire sia il patrimonio pubblico che il patrimonio privato e altre risorse sono state attribuite ad Agris per la ricerca. Non dobbiamo dimenticarci che il sughero rappresenta un importante settore economico per la Sardegna in particolare per quanto riguarda la produzione dei tappi per i vini. In occasione del Vini Italy la Sardegna ha ricevuto dei premi di riconoscimenti attribuiti ai vini che hanno vinto a livello nazionale alcune premialità perché il livello di produzione e la qualità dei tappi prodotti in Sardegna dal sughero sardo è particolarmente efficace nella tutela della produzione del vitivinicolo. Questo ci deve far pensare che è un settore nel quale il binomio natura-sviluppo economico trova la sua sostanza e la sua sintesi perché non esiste natura senza uomo e quindi dobbiamo cercare quell'equilibrio che deriva anche da una sostenibilità ambientale che ci possa far trovare spazio anche in ambito europeo. A questo proposito la Regione Sardegna ha scelto di attribuire la competenza della materia dell'assessorato alla difesa dell'ambiente proprio perché si riconosce l'importanza della tutela delle sugherette inserite in un ambito di sviluppo sostenibile e anche economico.